Il nostro pianeta si salverà se saremo in grado di arrivare alla decarbonizzazione 2050 e se saremo in grado di riportare l'Earth Overshot Day, cioè il giorno in cui finiamo le risorse del pianeta, al 31 dicembre. La nostra azienda lavora su questi due temi. Penso che per un giovane siano molto ingaggianti perché sono i temi del loro futuro e quindi poter contribuire a costruire un futuro sostenibile penso che possa essere per un giovane una cosa bellissima. Grazie